Vedo la neve del numero 25 della Unstiladins. Sulla Prima piatta al cedeandi vinteni del Museo Ladin-Castel de Tor che per l'occasione la ho rido i mostres. Dell'attualità è il successo della competizione di poesia e musica che abbina autores da tutta la Valle dei Ladines e ha metto all'ustre l'interesse a Movif per la cultura. Dell'attualità ha mo' la giornata di spaz con la roda dintorno a Sela con la strada Seredes a Iauti. L'evento di ricordanza di una femmina che assegna la storia, l'economia e il turismo di Fassa. La scomenzativa della provincia di Trent per conoscere la dora di Lengac, Ladin, Mocan e Cimbro. La scontredda sui temi della disvalivanza linguistica e culturella. e la radunanza di Alpins su un Contrin. La statua dell'Endi Love è stata 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 da mezzo dal centro della selva. Vedo i cominci. De Gardena è in una intervista alla campiona di schi che ha stato aperto la trasmissione dell'isola dei famosi. Da Fodom, l'inaugurazione della neva accesa del Prevedo è l'uriera di ristrutturazione. Della piazza della Valbadia, la neva che è stata metto su una corriere per colere i paesi e smendere il traffico di auti privati. A ora intervista Anna Maria Fiumg, Presidenta della unità pastorale a Valbadia per l'alitazione di Questutton. Della piazza di Fassa, la festa per la segra con dei svalivi momenti, la messa, il riconoscimento a Marcia Longa e il Domestì culturel con la presentazione dei libres. su un Ciaslire l'estat benedì l'opera per la pes e la mendranza di tutto il mondo. In Ciasoraga l'estat festeggià la segra con il Develpai ai Preves e la presentazione della neva mondura di Corisci. A ora tra piazza di Fassa la descorrida di piante e erbe con i botanici. Vainanti appuntamenti con gli esperti dell'ambiente e a ora altre parole interessanti della rubrica di Fabio Chiocchetti. La suona cantarina facenna metto fuori a neve singole che resona da stai stessa. In Ciascesta settemana è il retrato vede da in Doiner. Risultati da mare via della scuola ladina di Fassa all'esame di matura. Intervista a una della Cater Studentes e Studenti che ci appaiono in Ciela Lauda. Venori una mostra che resona del ZEC. Il Sport è la manifestazione mondiale di Enduro e la competizione di Roda da Monte del circuito Trentin. Sulla Ush di Ladin su ogni vendere potete trovare la neve seduta alla Ladinia. Per info e abbonamenti potete viaggiare alla redazione di Fassa su Stradona St. Jean. Telefon 042-74545. Mail Fassa. Laush.it El Shfo Interladin li ha la letta della bottega di Shfo Esdeduta alla Valedes e potete trovare la neve senza online sul sito laush.it Grazie a tutti.